Ciao mia bella nipotina, io sono la tua bella nonnina, sei pronta a giocare con me? Vattere Steph e smettila! Cioè che mi fai pure le voci! Nipotino, cosa succede? Oh, sarò un piccolino ma un fucile, quindi allontanati per favore! Calma, calma, calma! Calmati tu e non fare le voci da nonna pazza! Calma, calma, calma! Va bene nonna? Cosa? Va bene nonna? Vieni qua dai! Allora, quest'oggi giochiamo una sorta di nascondino, un bel po' diverso da solito, quindi raga una nuova versione del nascondino come sempre, con granni che cerca, quindi al momento sono granni quindi dovrò cercare e Ferri si nasconderà, come? Fai vedere Ferri? Aspetta, sei pronto? Vai! Mi raccomando preparati perché questa è una mossa che non si è mai vista Steph! Vado qui! Nascosto! Vedete? Svenuta! La casa dovreste ricordarvela a tutti, scrivete un commentino se ve la ricordate! E Ferri si nasconderà in questa casa gigantesca utilizzando appunto la possibilità di coricarsi per terra! Quindi una nuova versione del nascondino, un botto di likes, commenti se volete rivedere, sondaggio, iscrivetevi, campanellina... E basta! Stai chiedendo troppe cose! Stef, calma! Instagram! E poi... Basta! Instagram TV! È la stessa cosa! È la stessa cosa! Ti volevo dire Steph, perché per l'occasione ho messo, ho scelto la versione baby di me cesta, perché così non potendo essere piccoli piccoli come gli altri nascondini... Nascondini, spero di trovare qualche nascondiglio bello in giro per la casa! Ci sta, sei più piccola, quindi hai qualche chance in più! Allora, ti lascio un attimino a nasconderti, io qua faccio la nonnina... Cosa fanno le nonnine nel tempo libero? Uccidono i nipoti! No, quello lo fa solo grandi! Danno da mangiare ai nipoti! Stef! Stef! C'è un'altra gran in casa che mi ha detto! Cosa vuoi dire? Aiuto! Ferri, stai scherzando? Mi è sceso colpa! È vero! Sono entrata in un bagno, stavo cercando una scodiglia e mi vedo sto cosa, quindi dove è finito? Ma che cavolo vuole? Ce la fai? Non l'ho ricaricato, non l'ho ricaricato! Che noia, Stef! Ma che mi hai combinato? Non lo so, Ferri, ho buggato qualcosa! Vabbè, non c'è più! Ok, ok, vai via! Mi devo nascondere, Stef! La zona ormai della casa, perché ormai quella l'ho vista! Cavolo, mi ha rovinato! E soprattutto non... Ma ti sembra che era di spalle in bagno? Sembrava un cavolo di film horror, Stef! Beh, vabbè! Questa è la versione un po' spooky del nostro nascondino, Ferri! Quindi ci sta che ci sono queste sorpresine! Magari le ho messe apposta, chissà! Aspetta, aspetta! Forse ho trovato un bel posto! Ci sono! Fatto, Stef! Vado? Sì! Sicura? Sì! E ho dovuto cambiare zona, perché peccato, anche lì secondo me c'era qualcosa di bello, però... Oh, mi sono trovata un mostro in bagno! Che succede, Stef? Questo non si può saltare! E perché sei andato lì dietro? Perché... Cosa ci facevi? Stavo saltellando, ok? Ok! Allora... Aspetta, chi deve usare il fucile? Io o tu? No, io! Come tu? Sì, sono Baldi! Grani! Mi serve un'arma! Sono la nonna, quindi ho il fucile da nonno! Capito? Rida ancora! Raga! E' lo stesso essere imbecile! Sono Baldi! E' buono, lo so! Allora, magari faremo... Abbiamo appena finito di registrare il Lucky Block Race, spoiler... Di Baldi! Di Baldi! E quindi mi è venuto quello! Vabbè, dai, magari faremo un nascondino anche con Baldi! Può essere! Buola, sarebbe bello! Bello, 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 bello! Lo facciamo! Ok! Allora... Lei potrebbe essere un po' ovunque in queste zone! E quindi c'evo il fucile e ce l'ho io! Ok! Perché sono la nonna con il fucile da nonno! Quindi io non lo posso usare, non ti posso dare... No, tu lo puoi usare! Se sopravvivi tot minuti! E quanti? Non l'abbiamo deciso! Non li abbiamo neanche contati i minuti! No, va bene, quindi... Tanto tempo da ora! Che devo fare io con Steph? Ma che devo fare? Dovresti... Non lo so... Boh, fare qualcosa... Curarmi... Potrebbe funzionare! Sì! Allora, stavo per cadere, però qua c'è un bel terrazzino interessante! Ok, io invece sto cercando qualche nascondiglio anche per me per dopo! Beh, certo! Uh, bello quel terrazzo! L'avevo visto! Lo so! Ok! Ok! Dentro l'acqua non dovrebbe poter stare perché... Eh no, Steph si affoga! Teoricamente si affoga! Però c'è anche il dietro! Qualcuno sta ridendo! Hai ucciso un piccolo bambino, Steph! No! Ero io! No! Il piccolo bambino! Quella era una fere! Un mostro satanico e pericoloso! Era una piccola baby fere, Steph! Che potrebbe rovinare tutto nella vita! Si crudele e fai schifo! Allora, quindi adesso è il momento che fere si trasforma? Sì, mi sto già trasformando! Farà un po' paura come cosa! Ho già il fucile! Sì, Steph! Fatta che ricarico! Davvero? Ho paura! Che cosa ho davvero? Ho paura! Perché sei me? Vedo la mano! Ciao, nennina! No, dai, Steph! Non fare me! Ciao! Come sei? Perché devi fare me? Eh, sono carina! Vabbè, vai! No, in realtà... Non lo faccio! Non voglio essere te! Però faccio veri! Perché sapete che cos'è? Che praticamente lui avrebbe dovuto fare la versione baby di se stesso! Ma non ne ha avuto voglia! Per cui l'usa la mia! Perché poi quando io gli ho detto io uso la versione baby! L'ho fatto, ah, bello! Perché così ti puoi nascondere in più posti! Mi deve sempre copiare l'idea! Perché lui è scarso! Allora... Hai fatto? No! Hai fatto? No, ma neanche iniziato! E adesso neanche! Eh, ma mi fa aspettare una vita! Esatto! Ma mi fa aspettare una vita! È proprio indovinato! Allora, raga, qualcosa di geniale! Qualcosa di geniale! Qualcosa di geniale! Qualcosa di geniale! Mamma mia, faccio paura! Vero? Ma pure gli occhi! Gli occhi che sembrano spiritati! Vabbè! Lo so! Bellissima sta skin! Allora! Ok! La fai? Vai! L'hai fatta? Sì! Alleluia! Io sono soddisfatto! Cioè, devo essere sincero, sono soddisfatto! Però vediamo! Con che bella l'idea di Baldi nella scuola? Lo so! Secondo me ci sta, dovremmo farla! E quindi ho spoilerato che ci danno invece il Lucky Block di Baldi! Con una Lucky Race! Che a Ferre non è andata male! A Ferre non vanno molto bene le Lucky Block! Vanno sempre così! Quindi non è neanche uno spoiler dire che lei dà problemi! Si attacca alle cose e poi muore! E quindi io prima mi sono confuso Baldi con Grandi! Perché avevamo appena finito quel video! Non ci interessa, Stef! Dai, non interessava nessuno! Dovevo spiegare la figuraccia! Perché poi tu mi prendi in giro e basta! E invece dovevo spiegare! È giusto così! Non è giusto così! Allora, dov'è quel fallito di Stef? Eh che cavolo! Porca! Che è successo a Ferre? Ho fatto esplodere! Ho capito! C'era di nuovo la Granny in bagno! Io non entro più in sto bagno, Stef! Cioè, il bagno vale... Aspetta, aspetta! Chiudiamo le porte e non si entra mai più qui dentro! Te lo dico, Stef! È una coincidenza! Ma io direi che poi li faccio così! Se facciamo il nascondino di Baldi, mettiamo vari Baldi in certe zone che ti attaccano a sorpresa! Se che non mi fa troppo ridere! Vabbè, troppo bello! Gli ho sparato in faccia, Stef! Troppo bello! Hai fatto bene! È esploso! Devi... C'è una sola Granny qua! E sei tu! Esatto! Io non mi ero reso conto di come si è nascosto! Come? Boh! Spero bene! Vediamo, Stef! Secondo me è un buon nascondiglio, raga! Non so! Non so voi! Non si sale ancora in questa casa! E penso di sì, di fare altissima la casa! Ah, sì! C'è un terrazzo, credo, all'altezza massima! Ah, c'è un altro piano! L'unica cosa che non puoi raggiungere, se ricordo bene, è il tetto! Il tetto è irraggiungibile! Ok, qui c'è un letto buggato! Ok! Un sacco di bei comodini, di posti dove corricarsi e nascondersi! Quello era davvero un bellissimo nascondiglio! Ah, vero! Ormai l'ho rocchiato, non ti conviene non usarlo! Ok, guardate come controlla tutto! Va pure nei balconi, ora casca di sotto! Raga, secondo me, a me tra poco cosa è il fucile! Dove sei? Cioè, ci sta mettendo una vita! La stiamo distruggendo, che tanto lei era piccolina per non farsi trovare! Dove sei? Steph gigante invece! No, perché tu sei andato chiaramente in qualche posto che io non so come si raggiunge! No, 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 sono dentro casa! No, non è vero! Giuro! Dentro casa! Se dentro casa è in qualche posto strano! Giuro dentro casa! E sta fuori, raga, non si fida! È così, Fer! Certo! Fer, fa sempre così! Che era? C'era? C'erano cose strane, non lo so! Ok! Non lo so, Steph! Dove ti sei ficcato? È il momento di un fight uno contro uno fucili a pompa? No! Grandis versus Stephs? No! Secondo me sì, eh! No! È passato troppo tempo, Fer! Ma non rompere, ti sto ancora cercando! Ho capito, ma secondo me è il momento dell'uno contro uno! Dai, dove ti sei cacciato? Stai barando, stai fuori! No, no, non sto barando! Stai fuori per favore! Eh, va bene! Esci fuori, dai! Da qualunque posto tu esca io ti posso sparare perché sono in alto! Uno contro uno! Vai! Ok! Dai, dove eri? Dove eri? Dentro casa! Ti faccio vedere al volo e poi fai diamo? Allora, questa stanza? Eh! Ok, qui dietro ho caricato! Ma io ho anche guardato, perché non ti vedevo? Ero... Così! Ma dai, ti confondevi con la mobilia! No, no! Era un nascondiglio perfetto! Ok, 1v1! Steph versus granni! Eh, dov'è? Nonnina! Ti faccio esplodere come l'altra granni, Steph! Nonnina! Ma quindi qua? Ma ci sono anche passata qua, come ho fatto a nonnina! Sì, sì, infatti sei passata quattro volte! Una volta al 100% nell'inquadratura tua c'era il mio piede! Perché ho visto il tuo schermo, ho fatto cavolo, mi ha visto! E invece non mi avevi visto! Ma dai! I miei fucili non sparano mai! Fanno schifo! Basta, Steph, finito! Cosa? Ah, finito! Fere! No, non mi rinascondo! Fere! No! Andiamo a visitare il granni insieme? Quella nel bagno? Vai! Sarà di nuovo? Eh, certo che c'è di nuovo! Quella è spiritata, Fere! Ha conquistato il bagno della casa! Sì, io sono di fronte alla porta! Ok! Aspetta! Io preparo il fucile! Io apro tu! Spari? Vai! C'è? Non lo so! Sì, c'è! Vai! Cioè, tu vuoi vedere? È lì di spalle? Cioè, non lo vedi? Steph, ti sta attacchando! Fere! È invisibile! È invisibile! È invisibile! Tu spara! Ti prego! Aspetta, 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 aspetta! Cosa aspetta? Dov'è? Dov'è? Spara! Ok, l'ho fatto a spalle! Ma è morta? Sì! Ma davvero c'era? O mi stai trollando? Sì! Chi ti ha colpito? Magari mi ha tutto un pugno! Dai, Steph, hai anche guardato il mio monitor! L'hai visto che c'era! Guarda che riappare, Steph! Ok, vabbè! Non lo so, c'è qualche bug! E si è formata una seconda Granny con una sua vita! Io non so perché! E la vedo solo io! Steph, sta cosa è inquietante! Oddio! Ti ho visto a correre e pensavo fosse un'altra nel soggiorno invece di tu! Perché pensavo fossi ancora in bagno tu! Sto diventando troppo creepy, sta roba! Allora, voglio ricontrollare l'ultima volta! Steph, ti attacca! Dai, te lo dico io se c'è o non c'è! Aspetta! L'ho presa? Sì! Ok! Non la vedevo però! Allora, ci fermiamo così per questo video! Quindi fateci sapere se fate vedere la versione anche di Baldi! Se vi è piaciuto questo nascondino a tema! Se vi è piaciuta questa idea di nasconderci appunto coricandoci per terra! Che secondo me non è per niente male! È molto divertente! È molto Gmod! Perché ti devi arrangiare col tuo corpo strutturandoti e stando piccolo piccolo! Quindi ci fermiamo così! Lasciate un sacco di likes! Iscrivetevi al canale! Cliccate il campanellino! E ci vediamo in un prossimo video! Ciao ciao!